E l'America ha scelto il suo nuovo presidente, si tratta di Donald Trump. Il cardinale, segretario di Stato Pietro Parolin, dice facciamo gli auguri al presidente Trump perché possa lavorare per la pace nel mondo. Prima di tutto prendiamo nota con rispetto della volontà espressa dal popolo americano in questo esercizio di democrazia che mi dicono sia stato caratterizzato da una grande affluenza alle urne. Così il cardinale, segretario di Stato Pietro Parolin, a margine dell'inaugurazione dell'anno accademico della Pontificia Università Lateranense, ha commentato ai giornalisti la vittoria di Donald Trump, 45esimo presidente americano. Facciamo gli auguri al nuovo presidente perché il suo governo possa essere davvero fruttuoso. Assicuriamo anche la nostra preghiera perché il Signore lo illumini e lo sostenga a servizio della sua patria, ma anche a servizio del benessere e della pace nel mondo. Credo che oggi c'è bisogno di lavorare tutti per cambiare la situazione mondiale perché è una situazione di gravi lacerazioni e conflitti. Riguardo poi al tema della costruzione dei muri alle frontiere, su cui anche Papa Francesco si era espresso, il cardinale ha detto vedremo come si muoverà il presidente, naturalmente una cosa essere candidato, altra cosa essere presidente. Il cardinale ha poi aggiunto che sui temi specifici si vedrà quali saranno le scelte del presidente Trump e in base a quelle si potranno dare dei giudizi. Ma ora, ha concluso il segretario di Stato Pietro Parolin, mi sembra prematuro dare dei giudizi.